Perché l'Inail da circa 5-6 anni a questa parte, a livello territoriale, realizza interventi in materia di informazione, formazione e assistenza alle imprese. L'Inail dà il 50% di quello che uno poi spenderà, fino a un massimo di 100.000 euro. Dicevo prima che ci sono delle aziende e sono chiamati a questo bando ISI, sono coinvolti tutti i soggetti. Le piccole e piccolissime imprese sono coinvolte in questo progetto, anzi direi che più sono piccole più hanno possibilità, perché vengono proprio ad essere privilegiate le piccole e medie realtà.